Non lo voglio chiamare proprio un concerto, per me è una festa, perché ho fatto i miei 35 anni al contrario, 53 anni, e so stare ancora su una gamba sola. E ho voluto fare questo concerto, mi chiamo i miei amici, perché musicisti ce ne sono tanti, qua ce ne sono parecchi amici, sono Ruben Minuto. Forse per la prima volta qua, Mauro Tragani, e poi ci saranno vari opiti di maresso su tutta la pubblicità. E secondo te perché ci sono, la maggior parte di voi li conosco, però ho visto anche delle facce che non vedevo da tantissimi anni, soprattutto con lui con Daniele, e gli ho detto, io a quell'età lì, quando veniva il locale, ero talentuoso, diciamo, lui era già uno che suonava, ero lì con gli occhi puntati, e mi fa piacere che oggi sei qua, che direi, vediamo se è migliorato quel fiorino. E dai, cominciamo con un po' di musca. Ruben, mi canti qualcosa? Yes. Vediamo cosa succede, perché oggi non è che abbiamo provato proprio... Non c'è bisogno! Intanto ringrazio anche la mia famiglia che qua, mamma, mamma, i miei fratelli. Grazie. 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 Grazie.